Erano arrivati da Napoli in costiera amalfitana per cercare di truffare gli anziani della zona. Nella scorsa notte i carabinieri della compagnia di Amalfi hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale Mario Scognamiglio, 31enne di Napoli. L'hanno denunciato in concorso con due donne per i reati di truffa e furto. Nel pomeriggio i militari della stazione di Positano, nei pressi del comune di Praiano, hanno fermato un'auto sospetta con a bordo le due donne e l'uomo, il quale, dopo aver consegnato i propri documenti, accortosi che si stava avvicinando alla pattuglia un anziano del posto che chiedeva aiuto per essere stato appena truffato, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno così scoperto che pochissimi minuti prima l'uomo, fingendosi corriere, aveva truffato l'anziano di Praiano, dal quale, dopo un contatto telefonico con un finto nipote, si era fatto consegnare la somma contante di oltre 4.000 euro in cambio di un pacco rivelatosi vuoto. I carabinieri della stazione di Tramonti, nel frattempo, hanno scoperto che il 31enne, nella mattinata e con lo stesso modus operandi, aveva portato a termine un'altra truffa ai danni di un altro anziano del posto, sottraendogli circa 1.000 euro. Condotte in caserma per gli accertamenti durante la perquisizione delle donne fermate, i militari hanno trovato, nascosti negli inumenti, oltre 5.000 euro in documento di identità appartenente a un uomo di Tramonti che, nel primo pomeriggio, aveva denunciato il furto del proprio portafoglio lasciato all'interno della vettura parcheggiata lungo la strada. Il fuggitivo è stato rintracciato intorno alle due notti a Praiano, mentre tentava di rimediare un passaggio per poter abbandonare definitivamente la zona. Fermato dai militari dell'aliquota di Radiomobile, l'uomo ha opposto resistenza al controllo, colpendo i militari al volto senza però riuscire ad evitare di essere arrestato. Condotto negli uffici della compagnia di Amalfi, al termine delle formalità di rito, sarà accompagnato presso il Tribunale di Salerno per il rito direttissimo. La somma sottratta agli anziani è stata interamente recuperata. Grazie. Grazie.